Occupazione e legalità nel settore agricolo pugliese, la filiera virtuosa. Questo è il nome del convegno tenutosi presso la Camera di Commercio di Bari, organizzato dall'Associazione Produttori Esportatori Ortofrutticoli. Obiettivo dell'iniziativa creare sinergie tra istituzioni, autorità, sistema produttivo e commerciale per salvaguardare i significativi livelli occupazionali del territorio e delineare i percorsi condivisi per rendere ancora più virtuosa la filiera ortofrutticola pugliese in un contesto socialmente ed economicamente delicato e in continuo mutamento, come ha dichiarato nella sua introduzione ai lavori Giacomo Suglia, presidente dell'Apeo, l'associazione che raggruppa circa 100 aziende ortofrutticole tra le più importanti della Puglia. La partecipazione a Foggia è anche propedeutica alla prossima edizione di Eima che si svolgerà a Bologna a novembre dal 9 al 13 e quindi qui siamo venuti dagli amici pugliesi proprio per presentare e per divulgare l'informativa di Eima e sperando che vengano numerosi a visitare Eima la prossima edizione. Di rilievo gli interventi dell'assessore all'agricoltura della regione Puglia Leonardo Di Gioia in merito alla modernizzazione del settore agricolo pugliese e le opportunità offerte dalle risorse del piano di sviluppo rurale. A seguire poi Sebastiano Leo, l'assessore alla formazione e lavoro della regione Puglia, non ha perso occasione di sottolineare quanto sia importante al fine del virtuosismo fare sistema tra le aziende che producono qualità non solo dei prodotti ma anche nel rispetto delle norme.